Credo che Ford meritasse un avversario così importante a livello suo, ha sempre fatto molto bene in Europa, ma al di là di questo siamo felici di poter ricordare ancora una volta Alfonso, che sarà indimenticabile, quindi abbiamo avuto purtroppo questi anni di pausa, ma sappiamo tutti il perché. Riprendiamo, credo che riprendiamo la grande, con una gran bella partita, speriamo che ci si diverti pure. Quando si parla di Alfonso Ford non si può non parlare di AIL, quindi benvengano gli utili della serata per devolverli in beneficenza all'Associazione di Pesaro. Siamo molto onorati di questo invito ricevuto da Ario Costa e da tutti i ragazzi della sede qui, vedremo di fare il nostro meglio, dovremmo fare un trofeo noi da dedicare a questo grande giocatore, sicuramente ce la faremo e lo consegneremo alla squadra vincente. Un grandissimo campione direi perché credo che come lui ce ne siano stati pochi che hanno abbazzicato i campi da gioco italiani e quindi mi sembra giusto anche a distanza di circa 20 anni di ricordarlo e questo credo che sia una delle più belle cose, mantenere vivo questo ricordo e speriamo, mi auguro che si possa tenere vivo per altri 40, 50, 60 anni. La cosa più importante, mi raccomando chi ci sta guardando, venite, venite, venite numerosi perché fate i tifosi, ma fate i tifosi quelli veri, quelli che meritano uno spettacolo come quello che ci sarà il 20 di sera al Viti Frigo Arena.